Nove donne eritree, fra cui due mamme con le loro bambine di 3-5 anni, hanno trovato un tetto nella casa della Madonna Pompei. L'arcivescovo ha deciso di aprire le porte del santuario per loro. Un gesto concreto per dare un segnale che l'accoglienza non ha mai fine, anche quando sembra che proprio non ci sia un posto per altri profughi. E la scelta di accogliere queste donne stremate dalla traversata sui bacconi è stata naturale per noi. Il santuario di Pompei, infatti, fin dalla sua origine, ha come missione l'accoglienza dei più bisognosi, secondo il carisma del nostro fondatore, il beato avvocato Bartolo Longo, che accanto al santuario di Pietra ha costruito il santuario della carità, accogliendo gli ultimi e gli emarginati. All'inizio erano gli orfani ed i figli dei carcerati, oggi sono i minori a rischio, le donne in difficoltà, i poveri, i migranti. Finché resteranno con noi, noi cercheremo di fare una programmazione, crearci degli obiettivi, qual è l'insegnamento della lingua italiana, insegnargli anche qualcosa di manuale, come un lavoro. Ma il loro obiettivo è anche quello di ricongiungersi con i loro familiari. Questo gruppetto vivrà nella comunità Casa Emanuele delle Suore Dominicane di Pompei, nella stessa casa dove trovano accoglienza, coloro che la società è margina, orfanelle e ragazze madri, le quali però insegnano a quella stessa società il valore dell'accoglienza, giacché, pur non avendo molto, hanno subito condiviso quel che c'era in casa con i nuovi arrivati, le madri un vestito, le figlie un giocattolino. Era questo il sogno del Beato Bartolo Longo che, fra le prime azioni intraprese, diede forma a quelle opere di misericordia, fra cui vestire gli ignudi, dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati. E forse Papa Francesco aveva intuito questa vocazione specifica che qui si coltiva, quando lo scorso 21 marzo, nella visita a Pompei, fuori protocollo, scese nella cappellina per pregare sulla tomba del Beato, apostolo dell'accoglienza senza fine e senza frontiere.